Pietro ci racconta Sono una persona diffidente, molto. Mi fido solo di me stesso. Come posso instaurare una relazione sana? Fino a ieri l'ho fatto, ma sempre in un contesto negativo e, per così dire, scortato dalle sostanze. Io ho grossi problemi a relazionarmi. Ho paura dell'ignoto. Mi rimproverò di non essere andato a scuola, perché adesso comprendo quanto la conoscenza sia importante. Vorrei avere una piena conoscenza soprattutto di me stesso, per poter star bene in mezzo agli altri. All'età di 40 anni in me c'è stato un forte cambiamento, che non sono stato capace di accettare. Ho paura di morire. Forse perché ho vissuto così tanti lutti che mi hanno portato ad avere paura di confrontarmi con questa realtà. Ho dato sempre troppo amore, ma in modo sbagliato. Non sono stato capace di dosarlo. La paura di amare mi ha portato a una chiusura. Mi ricordo che quando è morto mio zio, mi sono reso conto che piangevo non la sua, ma la mia morte. Io ho paura di morire. Penso anche spesso la mia famiglia. Al fatto che non vedo i miei fratelli da molto tempo, perché loro sono rinchiusi come me. I miei genitori poi sono anziani. Sono preoccupato per la loro salute. L'esperienza comunitaria, però, mi ha fatto vedere i miei familiari anche sotto un'altra luce. L'ultima volta che sono andato a casa, mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. Perché ho visto che loro appartengono ancora a quel mondo fatto di malavita, di reati che, per troppo tempo, è stato anche il mio mondo. E se un giorno ritornerò a vivere con loro, penso che tutto ciò possa spingermi a compiere ancora certe azioni che non vorrei ripetere. Pensare a queste cose mi fa paura, perché sono la mia famiglia, le persone a cui voglio bene. Penso però che dovrò accertare di mettere una distanza fra me e i miei familiari, se non voglio tornare a fare la vita che facevo prima. Ho paura di ricadere negli stessi circuiti di prima, perché altro non so fare. Spero davvero che quello che ho imparato in comunità io riesco a portarlo anche fuori. Grazie. 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 Grazie.